in questo video tutorial vediamo come si compila la sezione di per le precedenze nel caso delle assegnazioni provvisorie è una sezione importantissima perché le precedenze danno diritto all'aspirante l'assegnazione provvisoria di precedere in gradatoria anche coloro che hanno punteggi superiori allora sezione di apriamo la sezione di e verifichiamo che abbiamo dal in ordine dal numero 1 fino al numero scendendo 15 15 precedenze che sono di importanza appunto fondamentale e il numero di corrispondenza della precedenza da un diritto maggiore rispetto al suo numero cioè come prima preferenza c'è la preferenza la precedenza più forte e per i docenti non vedenti che se dovessero avere questa situazione disabilità cliccando si avrebbe una precedenza assoluta assoluta e poi c'è i docenti e modializzati che potrebbero mettere sì e dunque hanno anche una precedenza molto alta oppure i docenti che usufruiscono di in questo caso è il punto di dell'articolo la lettera di l'articolo 21 della legge 104 cioè hanno almeno i due terzi di disabilità e dunque almeno il 60 per 7 per cento di disabilità e l'articolo 3 almeno comma 1 della legge 104 in tal caso basta mettere sì e avrebbero la precedenza poi c'è il questo punto 4 abbiamo la preferenza per chi ha gravi patologie e ha il bisogno di cure continuative la precedenza vale nel comune dove il soggetto e si trova a dover sostenere una terapia continuativa e dunque questo va chiaramente tutto documentato ed abbiamo il punto 4 al punto 5 sia all'articolo 33 comma 6 della legge 104 cioè i docenti i docenti che hanno una grave una situazione di gravità di gravità e dunque hanno la legge 104 articolo 33 comma 6 invece poi si passa al punto 6 il punto 6 a come vedete e la lettera g il punto 6 l'articolo 33 comma 5 7 l'assistenza per i figli e dunque questo si deve indicare sì se si ha un figlio disabile anche se temporaneamente disabile per quanto riguarda i figli il punto 7 abbiamo per la disabilità del coniuge cioè l'assistenza del coniuge gravemente malato il punto 8 invece è riferito ai genitori sarebbe la lettera i la lettera i e l'assistenza a uno dei genitori con la legge 104 scendendo ancora abbiamo la precedenza delle lavoratrici o dei lavoratori e le lavoratrici madre o dei lavoratori padre per avere un figlio di età inferiore sei anni e poi c'è anche co per coloro che sono lavoratrici madre o padri per figli di età compresa fra sei e 12 ma questo vale solo per le interprovinciali mentre il punto 9 vale sia per le provinciali che per le interprovinciali il poi abbiamo la precedenza al punto 11 che è l'articolo 33 commi 57 dunque l'assistenza a un parente o una fine entro il secondo grado di parentela questo per chi per esempio deve assistere la suocera piuttosto che la nonna andiamo avanti al punto 12 abbiamo il personale che ha e che è cessato dal collocamento fuori luogo e dunque rientra una precedenza nel rientro e questo è importante saperlo nel punto 13 c'è la lettera p c'è il coniuge di militare trasferito d'ufficio dunque si avrà la precedenza per seguire il marito la moglie militare trasferita all'ufficio il punto 14 si rifà a personale che ricopre cariche pubbliche e amministrative tipo consigliere comunale assessore sindaco questi hanno il diritto anche loro alla precedenza e poi l'ultimo punto il 15 è riferito a chi svolgeva un'attività di natura sindacale e riprende il servizio avendo diciamo perso anche la titolarità però questo si fa su altra provincia ecco questa sezione è la sezione riferita diciamo alle precedenze ed è molto ma molto importante speriamo che questo video tutorial sia stato utile ai nostri telespettatori seguiti ancora perché ne faremo anche degli altri arrivederci grazie a tutti